È il momento giusto per fare il primo dell'anno? Non so se è il momento giusto, però sono contento perché era veramente importante oggi contro una diretta concorrente e dopo tanti risultati un po' negativi oggi dovevamo vincere. Per fortuna è arrivata dopo un'ennesima sofferenza però finalmente siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Se ti avessero detto dipingi come preferisci il tuo ritorno al gol, avresti dipinto così bello? No, forse no. Nei sogni pensi sempre alle cose più incredibili. È normale fare gol agli ultimi secondi, è bellissimo perché sai che probabilmente non riescono più a recuperarti. Forse l'ho sognata più di una volta poter fare gol agli ultimi minuti però così, un 2-1 così all'ultimo, penso che è stata una gioia immensa. Il Bentegodi ha continuato a cantare per te anche oltre al novantesimo, ti hanno fatto finire in mutande anche. È una gioia immensa, mi fa molto piacere essere riuscito a fare gol proprio nel loro ventesimo anniversario. Questo è l'esempio che chi ci tiene particolarmente a questa società, sia calciatori che tifosi, siamo in tutt'uno. Questa è la dimostrazione che tutti noi teniamo particolarmente a questa società. È una dedica particolare per questi due gol? È normale, è di lì che vanno sempre le persone che ami e che ti vogliono bene e che ti hanno sempre dato l'affetto maggiore. Questa è la mia famiglia, indubbiamente poi i tifosi mi sono sempre stati vicini, sono stati anche quelli che mi hanno convinto a rimanere magari nei momenti di difficoltà, mi sono sempre stati vicini e penso che quando hai la fiducia di tante persone riesci sempre a dare qualcosina in più e nei momenti di difficoltà hai bisogno anche, anzi, e soprattutto bisogno di loro. Con queste norme gioie c'è anche una piccola percentuale di rivincita, di dire guardate, io ci sono ancora. Quello l'ho sempre detto, io devo assolutamente dimostrare che non sono un calciatore finito, io mi ritengo un calciatore sì di una certa età ma che ha tanta voglia di dimostrare che può ancora far bene in Serie A. Quest'anno non mi sono mai fermato, ho mai saltato un allenamento, fisicamente sto bene, indubbiamente bisogna avere la fiducia da parte di tutti, in primis l'allenatore che ti può mandare in campo. Maram ha dato questa fiducia e sono contento di essere riuscito a dimostrargli che non sono assolutamente finito. Riesci a ricordarti cosa hai pensato dopo il primo gol e mentre ti apprestavi a saltare per il secondo? La maggior parte dei gol vengono quando non pensi, io non stavo pensando, io pensavo solo a recuperare la palla, cercare di tirare, cercare di andare sull'incontro alla palla e poi quando è la tua giornata la palla viene verso di te, quando non è la tua giornata non ti si avvicina neanche, oggi si vede che era la mia giornata. Dove lo metti? Nella tua vita al Chievo, nella classifica dei momenti più belli della tua vita al Chievo, non so, dietro i tragolli di Torino, vicino a quello di Siena? Non lo so dove li posso collegare, indubbiamente sono arrivati nel momento giusto perché avevo bisogno anche di questo, avevo bisogno di dimostrare che non sono finito, che ho tanta voglia di continuare a giocare e mi auguro di poter ancora dare il mio contributo e magari se ci può essere ancora qualche occasione per poter far bene. L'ultima cosa per me in questi, se non sbaglio, oltre 400 giorni senza gol, cosa è stata la cosa più bella e la cosa più brutta che hai vissuto? Non so, la più bella indubbiamente è che tante persone mi sono sempre state vicino e questo penso che sia molto importante quando hai bisogno di qualcuno. La più brutta è proprio non far gol, purtroppo non giocare, non far gol per una punta può diventare complicato perché tendi sempre a voler far gol a tutti i costi, tendi sempre a cercare l'occasione giusta e quando non ci riesci magari ti demoralizzi. Se hai una domanda ti chiediamo anche di leggere questa frase? Beh, invito tutti i nostri tifosi a sostenere la ricerca sul cancro con un sms al 45503.